Ciao, sono Luigi di Clarintux, un Tux per sempre, ed eccoci ad un nuovo video della serie dedicata alle distribuzioni GNU Linux 100% libere e raccomandate dalla Free Software Foundation. Abbiamo già visto Triskel, una distribuzione GNU Linux basata su Ubuntu che vi ho consigliato, e Parabola, una distribuzione Rolling Release basata su Arch, praticamente una Arch pura, ma 100% libera. Il video di oggi potrebbe risultarvi molto interessante, perché oggi è il turno di PureOS, una distribuzione sviluppata dalla compagnia Purism e preinstallata sui loro laptop, sui loro portatili, Librem. I portatili Librem sono sicuramente molto interessanti perché presentano dei kill switches che permettono di spegnere fisicamente la webcam, il microfono, il bluetooth e il wireless. Inoltre, oltre ad essere venduti con un sistema operativo 100% libero preinstallato, quindi sente completamente da software proprietario, presentano anche un BIOS open source, CoreBoot. Se volete, posso anche fare dei video su CoreBoot e LibreBoot, perché tutti i miei portatili, tutti i miei PC, non presentano un BIOS originale, ma li ho sostituiti con CoreBoot e LibreBoot. Bene, vengono anche fatti degli sforzi per disattivare l'Intel Management Engine, considerato da Purism e da alcuni aspetti un vero e proprio problema di sicurezza. D'altronde, nessuno sa cosa fa questo Intel Management Engine, un vero e proprio sistema operativo che gira di nascosto su qualunque PC moderno. E il bello è che, se pensate di boicottare Intel e preferire AMD, bene, su AMD la situazione non è certamente migliore, perché comunque abbiamo un corrispettivo dell'Intel Management Engine, che al momento non ricordo come si chiama. Fatto sta che su qualunque PC moderno, un simile sistema operativo che gira di nascosto, accanto al nostro caro GNU Linux, esiste. Bene, direi di cominciare recandoci sul sito di PureOS, pureos.net, e qui vediamo che siamo alla versione 10.0, rilasciata nel novembre del 2021. PureOS è una distribuzione basata su Debian, con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla privacy, più che altro perché vengono abilitati di default HTTPS Everywhere e DuckDuckGo come motore di ricerca. Allora, io già l'ho scaricata, quindi vediamo di effettuare il boot. Test or install PureOS. Metto il video in pausa e ci vedremo quanto il sistema ha finito di caricarsi. Siamo alla scelta della lingua, aspettate che sposto la camera, ok, quindi clicchiamo sui tre puntini e cerchiamo la lingua italiana. Ok, poi la tastiera, clicchiamo sui tre puntini e scegliamo la tastiera italiana, nel mio caso no. Clicchiamo su avanti, Location Service, direi di no per motivi di privacy, ma se volete potete abilitare la localizzazione geografica. Se volete potete aggiungere account online. Andiamo avanti, tutto fatto. E siamo già ad una schermata di benvenuto che spiega come utilizzare Gnome, magari la vedremo dopo. Andiamo però a installarla. Quindi siamo su Gnome, esiste anche una versione con KD e Plasma, ma noi installiamo l'edizione Ammiraglia. È partito l'installer, si tratta di Calamares, quindi scegliamo la lingua italiana, Italiano Italia, ok, clicchiamo su avanti. La zona sembra già essere corretta, clicchiamo su avanti. Tastiera italiana, per voi, per me no. Clicchiamo su avanti. Bene, come sapete, io preferisco sempre partizionare manualmente e dedicare una partizione alla Home. In questo caso cancellerò l'intero disco per installare PureOS come unico sistema operativo. La cosa interessante è che siamo obbligati a criptare il sistema. Se deseleziono questa casella, non riesco a cliccare su avanti. Quindi, criptiamo il sistema, scegliamo una password e finalmente posso cliccare su avanti. Nome, Luigi, una password, confermiamo la password e direi di spuntare la casella accedere automaticamente senza chiedere la password, tanto ci verrà chiesta in ogni caso la password per decryptare il sistema. Abbiamo un sistema criptato, quindi ci verrà chiesta la password all'avvio. Clicchiamo su avanti. Abbiamo il reapilogo. Clicchiamo su installa. Installa adesso. Bene, partita l'installazione, quindi metto il video in pausa e ci vediamo dopo. Il sistema si è installato molto rapidamente, quindi ho effettuato il boot e siamo alla schermata della password per decryptare il sistema. Andiamo ad inserire la password. So, andiamo ad inserire la password. Allora, andiamo ad inserire la password quindi dovremmo accedere automaticamente alla sessione di Gnome i requisiti minimi sono almeno 4 giga di RAM e 15 giga di spazio libero sul disco ed eccoci su Gnome messaggio di benvenuto ok privacy di nuovo ok saltiamo questo passaggio tutto fatto iniziamo ad usare pure OS ecco questa era la schermata dei primi passi su Gnome sicuramente interessante per un utente novizio la guida Gnome ok bene cominciamo direi di vedere su che kernel siamo quindi apro un terminale siamo sul kernel libero sul kernel libre 5.10.0 va bene già mi segnala che abbiamo degli aggiornamenti disponibili andiamo a vedere magari cosa che non so come si fa perché non sono un utente Gnome va bene abbiamo aggiornamenti di sistema operativo quindi miglioramenti di prestazione stabilità e sicurezza aggiornamenti di libre office eccetera sono 11 aggiornamenti andiamo a vedere il web browser come browser abbiamo pure browser che è un browser basato su Gnome web e come vi dicevo c'ha dei plugin preimpostati HTTPS Everywhere e come motore di ricerca DuckDuckGo vediamo di scrivere qualcosa ad esempio Linux esatto siamo su DuckDuckGo HTTPS Everywhere non lo vediamo qua ma sicuramente se tentiamo di accedere ad un sito HTTP non dovrebbe funzionare ci dovrebbe reindirizzare sulla versione HTTPS va bene su che versione siamo informazioni su web basato su WebKit GTK 2.36.3 e non c'è scritto che versione è aiuto no, nemmeno va bene andiamo a vedere la dotazione software preinstallata abbiamo Gnome Boxes per macchine virtuali il calendario CIS per la webcam ripeto che sui portatili Librem è possibile disattivare la webcam proprio fisicamente quindi essere sicuri che la webcam sia spenta non da un punto di vista software ma proprio fisicamente poi abbiamo contatti controlli parentali interessante quindi qua è possibile andare a specificare delle regole per chi ha figli e vuole essere sicuro che i figli non utilizzano applicazioni o siti web non sicuri diciamola così va bene interessante poi editor di testo che dovrebbe essere G-Edit vediamo sì siamo su G-Edit cos'altro estensioni per Gnome il file manager Nautilus ovviamente ok continuiamo con Forza 4 poi abbiamo Foto cos'è questo Shotwell non ne ho idea va bene andiamo avanti input method poi la suite LibreOffice ovviamente andiamo a vedere su che versione di LibreOffice siamo siamo su LibreOffice 7.0.4.2 bene poi abbiamo un'applicazione per le mappe orologi Polari che sinceramente non conosco sembra un'applicazione di messaggistica andiamo a vedere benvenuti in Polari Polari è il modo più semplice per conversare utilizzando IRC va bene quindi un client per IRC andiamo avanti Rhythmbox abbiamo il software center di Gnome quindi qua è possibile installare facilmente tutte le applicazioni che vogliamo vi ricordo che sui repository sono completamente assenti i software closest source e i software proprietari va bene cos'altro software e update spegne spegne le luci un'altro gioco un'applicazione per la lista di ToDo video che credo sia il vecchio totem si andiamo avanti web il browser il browser pure browser già l'abbiamo visto utilità abbiamo monitor di sistema tabella caratteri questo sarà configurazione del desktop no configurazione delle connessioni eravamo su utilità vabbè abbiamo un'utilità per effettuare il backup ovviamente la calcolatrice visualizzatore di desktop remoti schermata per effettuare degli screenshot va bene andiamo magari a vedere il monitor di sistema vediamo che quante risorse vengono utilizzate abbiamo attualmente un 20% di cpu che adesso sicuramente va andrà a scendere e vediamo che viene utilizzato 1,2 giga dei 5 che ho dedicato a questa macchina virtuale 1,2 giga abbastanza comune per gnome diciamo no magari a sistema appena avviato andiamo a sfruttare meno ram ma io già ho aperto diverse applicazioni comunque tutto nella norma bene questo è pure OS spero che vi sia piaciuto sicuramente interessante dal punto di vista della privacy anche i portatili sono molto interessanti non è una distribuzione che ho utilizzato a lungo però si mi sento di poterla consigliare è semplice da utilizzare quindi adatta a principianti al pari di Triskel ma Triskel l'ho utilizzata per un periodo di tempo abbastanza lungo quella si mi sento di consigliarla senza problemi va bene spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima un saluto da Clarintux grazie a tutti